7 aprile 1979, Pietro Calogero, sostituto procuratore della Repubblica di Padova, ordina l'arresto di alcuni leader di autonomia operaia. Fra gli arrestati ci sono Tony Negri, Oreste Scalzone e Franco Piperno. L'accusa è di associazione sovversiva e insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Ad alcuni fra gli arrestati sono contestati anche il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro. Questa imputazione cadrà già nel 1980.